E' finito, eh, abbiamo vinto. Questo è buono. Pergi. Sì, ma è duro per fine non essere raffinati a male racconto, non è così? No. È duro ammettere che avete fatto più voi in una sera, che in due anni di discorso. Ah, non c'è da sé. No, no, sconosciate. All'uomo nuovo del sindacalismo americano. Ecco, sì, mi conti. E dove vieni? Ora, ciao, ciao. Ora, ciao. Vuoi la parola? Ah, ciao. Ciao, ciao. Dimmi il mio cuore. Ma, 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 andalo giù. Ma siete pazzi a farlo bere? Deve entrare subito in sala operatoria. Ma no, non c'è nessuna fredda. Tranti dottori mi hanno già detto che resta in un zocco per tutta la vita. Non preoccupateci, Mie. Anche con una gamba un po' più corta, tu farai lo stesso passi da gigante. Già. Ma sempre un passo dietro a te, e scarchi. Ehi, guarda che non sbaglio il gatto, prega. Allora, guarda che non fatti, tagliare il resto. Allora. Bello, ragazzi, ora vedete l'amico un martire. Mettetelo a tutto. Sì. Ma io vorrei sapere che ci si fa con un martire. Mi cambiano. Il proibizionismo ha ancora pochissima vita. Sentite che a me i punti di voi finiranno a mezzo buc'altro. Si, spieghi meglio di ci lasciarmi. Ci interessa. Non vi è mai venuta l'idea di mettervi in affari. Tutti i miei cambi non lo usano per il contrabando, presto le danno via. Niente. Sto parlando di centinaia di mezzi. Controllati da un'organizzazione nazionale che è appoggiata da un sindacato potente, con un attacco Jimmy Conway. Non avrete chiede a chiedere. Ora non può più rifiutarvi niente. Lei è scherzo, mi sta scelto. Gli miei mani puliti è un affari per me. Io credo che non avrete meno puliti per molto quelle mani, con tutte quelle che dovrà stringere. Date un contatto. Non siamo interessanti a... Che c'è, Rodos, qualcosa che non va? Abbiamo un sacco di soldi da parte. Perché non investire? E allora, qual è il problema? Perché è anche il partito che è proprio lui. Io ho amicizia dei posti chiari. Non mi interessano le sue amicizie dei posti chiari. E te i politici che stanno sguervati. Cazzo, tu sei rimasto con la metterità del pezzetto e valotto. Se fosse stato per te, staremmo ancora a ripulire un bianco. Perché? Mi mancano i soldi? Cioè, non rubri con i bianco. No, sì, mi mancano. Quelli veri sì, mi mancano. Se vuoi puoi servirti. No, sì. No, sì.